Negli ultimi dieci anni, come insegnante di mindfulness, ho fatto esperienza con gruppi di pazienti in reparti oncologici e il libro è il racconto di questo viaggio. Lo scopo del nostro lavoro è prendersi cura della relazione con se stessi e con la malattia. La mindfulness nasce da una laicizzazione di pratiche meditative buddhiste ed è rivolta a chiunque debba affrontare una difficoltà piccola o grande, come in questo caso. Il libro raccoglie storie, dialoghi e le intuizioni che nascono da questi dialoghi. Raccontare storie cura, intanto perché dà un senso, dà un ordine a quello che stiamo vivendo e poi perché allevia l'angoscia di situazioni spesso insostenibili. Narrando i partecipanti si scambiano ispirazioni e lentamente fanno emergere ciò che conta davvero. Questi dialoghi accadono in un ambiente speciale, un ambiente calmo e lucido che coltiva la mindfulness e non hanno il carattere della cupa disperazione, neppure dell'ottimismo forzato. Creano piuttosto un campo di profonda empatia, un campo condiviso a partire dal quale possiamo volgerci insieme verso la sofferenza e verso le domande più importanti. Nel libro Le storie degli umani si intreccia una storia degli animali. Questo perché come biologo sono sempre rimasto affascinato dal modo che queste meravigliose creature hanno di percepire se stessi e il mondo e di percepire la sofferenza, il cambiamento, le difficoltà. Di fatto nella nostra società il rapporto con la sofferenza è medicalizzato, è considerato un fatto privato. Invece è possibile vederlo attraverso un percorso anche come una risorsa. Non dobbiamo solo diventare esseri umani ad alta prestazione. La sofferenza può toglierci delle maschere, può donarci momenti di sconcerto, di rottura delle consuetudini, ma anche momenti di apertura, di breccia, di trasformazione. La meta forse è arrivare a cogliere quel profumo di mistero condiviso, quell'impasto di impermanenza e di amore, di caducità e del semplice fatto di esserci. Così, vivi, pulsanti, guardanti. Spero che questo libro possa essere di beneficio sia ai pazienti che ai sanitari, che ai familiari e soprattutto a chiunque ne senta la necessità.